Io venivo da una città di provincia, Massamarittima, e avevo un professore al liceo che insegnava letteratura e storia e anziché insegnarci Manzoni e Pirandello ci insegnava Eisenstein e Pudovkin, perché era un ex allievo del centro sperimentale. Del primo anno insieme a lui c'erano Pietro Ingrao, Gianni Puccini, Piero Pierotti e Vittorio Cottafavi, questo si chiamava Angelo Gianni ed era un grandissimo, ha scritto un sacco di libri per la scuola, è diventato pure molto famoso, ma lui si accorse dopo il primo anno che non riusciva a quadrare la direzione degli attori, anche se era ferratissimo in tutta la tecnica, per cui optò per la letteratura, diventò professore di ruolo nei licei e naturalmente a scuola ci cominciò ad insegnare il cinema, il montaggio, lo specifico filmico e insieme fondammo un cineclub nel 1949 a Massamarittima, che è uno dei primi d'Italia, venne Callisto Kosulic e Virgilio Tosi che erano gli esponenti di spicco della Federazione Generali Circoli del Cinema. Io ero il segretario, facevo la programmazione, questo professore era il presidente e fu che dopo due anni mi disse, ma guarda tu sei uno bravissimo, poi c'è la personalità, perché non fai concorso al centro sperimentale? Ma io facevo l'università lavorando a un club di minatori e guadagnandomi il pane, io guadagnavo 20.000 euro al mese facendo il direttore di un cinematografo, di un cinematografo vero, e poi facevo anche il responsabile di una biblioteca, per cui andavo a scappefuggi a Pisa all'università, mi trattenevo qualche giorno quando potevo, e insomma, a forza di sacrifici arrivai alla vigilia della laurea nel 1954. Nello stesso tempo che preparavo la tesi d'estate mi arrivò al cineclub il bando di concorso del centro sperimentale e lo mandavano in tutti i circoli del cinema, capito? Io lo lessi e ci provai, lo riempì il modulo e lo spedì. Dopo un mese mi chiamarono e sostendi l'esame di ammissione, ma il mio arrivo a Roma fu una cosa drammatica perché non ero mai alzato a Roma. Arrivai con una valigia di cartone, non sapevo dove sbattere la testa, quando arrivai a via Tuscolana a chilometro 9 c'erano almeno 400 giovanotti che stavano lì a fare quello che volevo fare io e tutti conoscevano i vari professori, i filosofi, i preti, tutti, e io invece non conoscevo nessuno. Allora mi chiamarono a fare questo, nota bene, ci voleva la laurea per essere ammessi al centro, per cui io portai una dichiarazione, avevo sostenuto gli esami e che avrei discusso la tesi il 4 novembre, avevo già fissato tutto col mio professore, relatore della tesi. Fui ammessa all'esame e l'esame fu la cosa che mi ricordo meglio perché la commissione era composta da professor Giuseppe Sala che era il direttore del centro, poi c'era il vice direttore che era Mario Verdone, il quale mi appoggiò moltissimo e poi ti spiego perché. E poi c'era Renato Mai che insegnava teoria del cinema, c'era Nino Ghelli che insegnava estetica, c'era la signora Rosata che insegnava montaggio e poi c'era un belga, Carl Vincent, che insegnava storia del cinema. E poi c'era Giorgio Prosperi, che era un grande, insegnava sceneggiatura, era un grande, ha fatto tutti i film della Titano, ha fatto senso, ha fatto insomma una film con tutti i grandi registi e da lui veramente ho imparato molto. Loro mi chiesero, Verdone mi disse, lei è di Massamaritti, ma siccome Verdone è di Siena, non so se lo sai, mi disse ma lei ho letto delle cose suve che ha pubblicato nel Circo del Cine di Massamaritti e poi lei è un amico di uno di Siena e quindi dice, lo conosco, senta, mi disse, se dovesse trasporre un romanzo italiano contemporaneo in un film, quali sceglierebbe? Io il Taglio del Bosco di Cassola, mi guardarono come se fosse un insetto malefico. Poi invece è stato fatto da Cottafavi per la televisione ed è stato molto bello. Io ero amico di Carlo Cassola e di Luciano Bianciardi perché loro facevano il Circo del Cinema a Grosseto e che li aiutavo io nella programmazione, capito? Quindi ho questi trascorsi di alta cultura, ecco. E poi insomma gli esami andarono bene perché io rispondevo bene in tutte le materie, fui ammesso alla grande, però il problema per me era un altro. I miei genitori non avevano i soldi per potermi mantenere a Roma. O pigliavo la borsa di studio o tornavo là e presi la borsa di studio. Io Franco Rossetti si prese la borsa di studio. Era 50.000 lire il mese, però noi siccome loro la divisero in due perché eravamo classificati uguali, io e Franco Rossetti, solo che lui era di famiglia ricchissima e quindi poteva rinunciare e dammeli 50.000 a me. E comunque io con le 25.000 lire, quello che prendevo di stipendio da lente minatori perché sono rimasto agganciato lì fino al mio primo film, insomma sopravvissi, sopravvissi non certo bene ma abbastanza. Io avevo una camera in affitto come tutti gli altri colleghi eccetera, avevamo tutte le camere in affitto nella zona di Piazzale di Roma perché lì c'era la Piazzale di Roma c'era il passaggio del famoso trenino, del trenino azzurro e quindi avevo una camera in affitto, poi il giorno si mangiava al centro e ci si riempiva le tasche di pagnotte eccetera e la sera pizzeria. Mi ricordo con Marco Letto se andava a una pizzeria a Via Frattina dove una pizza stava 100 lire, lui beveva acqua e beveva anche una birretta e così ci siamo per due anni è andata così. Lì ho conosciuto molte persone, era una pizzeria di intellettuali che volevano fare il cinema, tanti hanno fatto le teorie. Ho conosciuto, io a Pisa ho conosciuto durante l'università Paolo Taviani perché Paolo Taviani è all'età mia e ci siamo incontrati al cineclub di Pisa dove io frequentavo, quando andavo a Pisa e restavo lì, andavo al cineclub di Pisa. Siamo diventati amici e poi l'ho ritrovato in questa pizzeria a Roma quando io frequentavo mi sembra il secondo anno e allora per un po' di tempo ci siamo frequentati, invece il fratello che faceva legge come me, non lettere come lui non l'ho mai incontrato. Ma la cosa che a me mi ha portato oltre al centro a fare un'esperienza cinematografica grossa è stata il fatto che io nel cinema che dirigevo come direttore ho fatto la prima del Ferroviere, la prima nazionale del Ferroviere perché andai via Veneto, io già stavo al centro, acchiappai Germi davanti al bar Rosati e gli dissi guardi io sono il direttore di un cinema di Minatori a Massamaritti ma se lei presentasse il Ferroviere là sarebbe un onore per noi e lui disse sì e venne insieme al maestro Rustichelli, era il gennaio del 57, mi ero diplomato da meno di un anno e facemmo questa proiezione con quasi 800 persone, quasi tutti i lavoratori e lui esordì, ci è presentato da me al microfono, esordì dicendo questo film parla di un lavoratore, di un operaio per cui per me la massima aspirazione è presentarla a voi e vedere come risulta. Poi feci la prima nazionale di Cronali di Poveri Amanti con Carlo Lizzani, Giuliano Montaldo, Giuliano Montaldo faceva l'attore lì, no, tutte le spese nostre del Comune di Massamaritti e c'era Massimo Mita tutti che poi pensa Massimo Mita e lo guardavo così e poi quando lavoravo veniva a chiedermi il lavoro, poveraccio, ed era una persona preparatissima, ha fatto l'aiuto, regista impaisata anche per ditene una, però non era adatto, registi si nasce, capito, ci vuole la personalità, ci vuole qualche cosa che se non ce l'hai non, e lui era una persona dolce, capito, intellettuale tipico, ho fatto anche un paio di film, ma insomma roba anonima ecco, mentre Carlo Lizzani è stato un grande, è stato un grande e io sono così contento che lui le ultime due cose che ha fatto prima di morire ha presentato Morte al Cinevillaggio e Terror ad Arlen con me qui alla libreria, c'erano tutte e due, e mi disse guarda Umberto dice io, in questi due romanzi ho ritrovato la mia vita, perché gli antifascisti che tu descrivi in Terror ad Arlen, che c'è anche un conte del nord, e vi ascolti, gli altri siamo noi, io Massimo Mita, eccetera, e poi Morte al Cinevillaggio lo entusiasmò perché ho raccontato la Repubblica di Salvo e Venezia, documentatissimo. Mario Verdone era un grande, perché a differenza del, io non voglio parlare di nessuno, ma a differenza del direttore Sala, che era un professore messo lì dalla democrazia cristiana e che non valeva niente, lui era uno che invece valeva, sapeva scrivere, sapeva interpretare il linguaggio cinematografico, poi era una persona dolcissima, molto seria, molto posata, quindi per me è stata un'esperienza molto valida quello di averlo conosciuto. Infatti avrei voluto invitare la presentazione del mio romanzo, ma stava già male, non ho potuto. La mattina si andava, penso come ora, si firmavano un foglio e ci davano il buono pasto, no? E poi iniziava le varie lezioni, quelle più importanti per noi erano quelle di Renato Mai, che era un grande teorico del montaggio e del linguaggio filmico, però era un uomo anche lui con molti complessi, poi era stato smarginato un po' dall'industria perché esordì come montatore di gioventù perduta di Germi e non è stato più chiamato né da Germi né da altri. Ha fatto molti documentari invece per l'Istituto Luce, ha lavorato molto per l'Istituto Luce, ma lui guarda, ha scritto anche un libro, il linguaggio del film, che poi lo prestai io a Paolo Tapiano e non l'ho più rivisto e quindi insegnava veramente quello che era lo specifico film in tutti i aspetti, l'inquadratura, il montaggio, il taglio, gli obiettivi, quella che era la grammatica, insomma, la insegnava lui. Poi Giorgio Prosperi ci insegnava sceneggiatura, avevamo un paio d'ore con Mai, la mattina un paio d'ore con Prosperi e lui ci insegnava sceneggiatura partendo dalla costruzione teatrale di un testo, perché come sai era un critico teatrale ed un commediografo anche, ma era molto bravo. Il primo anno ci fece lavorare tutto l'anno su Sunset Boulevard. Poi c'era il professor Ghelli che insegnava estetica cinematografica, che era un esistenzialista, molto strano come persona, sempre elegantissimo, chic, tutto così, e lui si definiva esistenzialista, ma era cattolico sfegatato, il quale però aveva, ma non spiegato, un secondo lavoro era direttore, non so, della CEA, di qualche cosa di grosso così, capito? Ecco, lui ci insegnava estetica, ma non serviva a niente. Poi c'era Fausto Montesanti invece, che era una brava persona, anche lui un intellettuale così un po' senza personalità, che ci faceva proiezione, per cui tutti i pomeriggi, appena mangiato noi, all'ora di pausa, andavamo dopo in proiezione e vedevamo dei film che partivano da Lidaborelli, da Charlot fino a Rossellini, insomma, tutta la storia del cinema si è fatta in due anni, con lui che spiegava, che introduceva, e poi che avevamo la signora Rosada, Maria Rosada, che era montatrice, insegnava montaggio, ma lei era una grande, aveva cominciato durante il fascismo, e insomma, professionalmente, era una delle prime donne che ha lavorato nel cinema alla grande, montando dei film proprio importanti, e infatti mi ha seguito anche dopo, quando io ho fatto il mio primo documentario sulle miniere di massa marittima, e lei l'ha montato. Blasetti, Blasetti, sì, ma veniva una volta ogni dieci giorni, perché la teoria della regia la faceva Renato Mai, e lui faceva le esercitazioni, e poi faceva le esercitazioni anche alla lavagna, insomma, in classe, e da lì lui studiava chi era bravo, chi aveva qualità. Io infatti ero il suo preferito, quando interrogava un altro, era di cui non faccio il nome, e quello diceva, Lenzi, spiegaglielo te. E infatti lui mi ha fatto lavorare, quando io mi morivo di fame, dopo che ho lasciato il centro, e non era ancora entrato in questa società dell'Universa Alpiccio, lo incontrai a Via Veneto, lui, sai, con la tuta bianca, era estate, mi ricordo, mi guardavo, mi diceva, come fai qua da queste parti? Dico, niente, vieni con me, vieni con me, parliamo. E mi portò in un ristorante, lui abitava a Via Lazio numero 9, io sono stato tante volte a casa sua, e lì davanti c'era un ristorante, il Sor Giovanni, che io poi ho messo anche nel libro, e mi fece mangiare, perché era due giorni che andava avanti a supplì, e mi disse, senti, guarda, io ti faccio, ora so per cominciare un film, che sarebbe Amore e chiacchiere, è diventato, ma allora si chiamava Salviamo il panorama. Dice, io non ti posso prendere come aiuto, perché ho Isa Bartalini, che è fissa, mia figlia, perché è mia figlia, e poi ho Luigi Di Gianni, che era uno del centro sperimentale, che ha fatto tanti documentari premiati, eccetera, ma non ha esordito mai nel film di fiction. E quindi dice, più di tre aiuti non me li danno, allora io ti faccio lavorare come attore, e vedrai che fai una ventina di pose e segui il film come assistente volontario. E infatti questo film, tutti lo vedono, ogni tanto mi chiama qualcuno, io faccio un soldato toscano, ovviamente, che fa tutto il viaggio con la protagonista, che è la Carla Gravina, che è scappata di casa, ha lasciato il padre, e quindi ho fatto... Però, se l'avessi girata io, queste scene le avrei fatte in tre giorni, ma lui ci portava, siccome si svolgeva fuori dello stadio olimpico, ci portava allo stadio Flaminio e faceva segni per terra, ci faceva fare tutte le prove, insomma, per girare due o tre scene ci mise quattro settimane, e il mio contratto andò avanti, io mi salvai un po'. E questo avveniva nella primavera del 1957, quando io ero indeciso se tornare a Grosseto e fare l'avvocato, perché ero molto amico io, dell'avvocato Marcello Morante, padre dell'attrice Morante, eravamo proprio intimi, e lui mi aveva preso nello studio come praticante, ma io poi la lasciai, venne qua, non mi vide più, mi incontrò per caso a Via Veneto un giorno, mi disse, ma mi potevi pure avvertire che veniva a fare cinema. E quindi, quella era la primavera, poi in estate, in estate fece il film con Esther Williams, dal centro sperimentale, dal centro sperimentale, perché mi telefonò, dal centro sperimentale, un professore che insegnava produzione, io non ti ho citato prima chi insegnava produzione, c'erano due, Valentino Brosio, che era un grandissimo, lui insegnava, Valentino Brosio, agli allievi di produzione, agli allievi di regia, la materia produzione, la insegnava un certo Giulio Niederkorn, che era l'organizzatore del primo film di Ponti, Piccolo Mondo Antico, e poi era uno che, non so come era sopravvissuto, fatto sta che questo mi telefonò, e mi disse, senta Lenzi, lei dovrebbe venire a Grosseto, alla stazione di Grosseto, mi chiamavo a Massa Marittima, alla stazione di Grosseto domattina, con un taxi, e lo impegni per tutto il giorno, perché verrò con un grande produttore di Hollywood, e gli ho detto, va bene, sì sì, mi raccomando, alle nove in punto deve essere fuori, davanti alla stazione, sì, io, ma questo chi è Marco Leto, Franco Grosseto, chi è che mi prende in giro, questa cosa, che ha imitato la voce, insomma, allora, io sai, non potevo, andai da un amico, e ci aveva il taxi lì, e gli disse, senti, io ti impegno per tutto il giorno, dobbiamo andare a fare dei sopralluoghi, con un produttore di Hollywood, ma se è uno scherzo, io non ti posso pagare una lira, non ti preoccupare, faremo una cita, siamo andati a Grosseto, è arrivato lui, con Tom Shaw, che è stato il direttore di produzione, preferito per esempio di John Huston, era uno molto bravo, e siamo andati, dice, dobbiamo fare un film, che è intitolato, Raw Wind in Eden, vento di passione, vento di tempesta in paradiso, e poi in italiano, vento di passione, con Esther Williams, che allora era il top delle attrici, delle attrici ballerine, eccetera, Jeff Chandler, che era quell'attore, con capelli bianchi, già che faceva sempre il Metiche, eccetera, ma anche lui era ormai, una firma numero uno dell'universa, due anni dopo è morto, poi ti dirò, e allora, dice, dovremmo andare a trovare un posto di mare, perché questo film si svolgerà tutto su un'isola deserta, allora noi abbiamo bisogno di trovare una località deserta di spiaggia, che però ci permetta di andare a Roma tutte le sere, a portare il materiale, eccetera, noi traghetti, e allora io li portai a Castiglione Pescaia, Castiglione Pescaia allora, era un borgo di pescatori, con un solo hotel da tre stelle, e tutto il resto della costa, da Follonia fino quasi a Tarquinia, era tutto, non c'era niente, non c'era niente, per entrare, per andare in questo punto, che loro scelzero e io li portai, si chiamava, c'era un forte, un forte antico del Cinquecento, sai, quelli che avvistavano i pirati a tempi, si chiamava Forte delle Rocchette, e sotto c'era questa spiaggia, un tratto di pineta enorme, con delle dune, eccetera, e su questo castello disabitato, c'era scritto, in Forte delle Rocchette, Nido di Falchi, costruita l'anima della vecchia Maremba, io rimbriacai, questi scelsero sto posto, il regista, non c'era regista, c'era il direttore di produzione, questo mio professore, e dice, torniamo la settimana prossima con il regista, riporti il taxi, e il mio amico era contento, capirai una giornata intera di viaggio, lo pagarono bene, e allora da lì, scelsero sto posto, e poi quando arrivarono a Roma, io chiamai il mio professore, e gli disse, allora il professore mi prende a fare l'aiuto del regista, l'assistente, eccetera, no, ma sa, questi sono americani, non è possibile, mi dispiace, e io disse, ma guarda sto figlio di buona donna, mi ha fatto fare tutte queste cose, allora mi piazzai davanti alle Cezze, da buon toscano, disse, ma il Tom Shaw dovrà uscire, dovrà andare a mangiare in qualche posto, e poi sono stato delle ore lì, alla fine questo Tom Shaw, che era un tracagnotto americano, non parlava una parola se non di slang, americano scende per andare in farmacia, accanto a Fradonelli, in licezzo c'era una farmacia, io lo seguì, con un inglese un po' così, casareccio, gli disse, ma scusi, ma io vi ho fatto trovare tutte le location, mi vuoi far lavorare? Dice, come? Devi lavorare, non ti ha detto niente il tuo professore, eccetera, no, dice, allora vai subito a Cinecittà, a nome mio ti presenti, è il signor Piero Mussetta, che è l'organizzatore reale del film, perché il tuo professore è un po' coordinatore, ti presenti lì, gli dice che lavorerai nel film come assistente alla regia, perché l'aiuto regista viene dall'America, con tutta una truppa di americani miei, disse, beh, io prendo il transito, vado a Cinecittà, mi presento lì in questo ufficio che ti ha scritto Universal International, entro lì ci trovo questo Piero Mussetta, poi è morto due anni dopo, anche l'uno in incidente, ma uno ha fatto Vacanze Romane, ha preso un Oscar, un premio famoso per aver fatto Vacanze Romane, un americano tranquillo, tutti i film di Billy Warren, tutti, era proprio uno, era piemontese, alto, quasi due metri, parlava inglese perfettamente, era ingegnere, era un grande, ma avrebbe fatto l'aiuto regista tutta la vita, ma a livelli molto alti, sia di professione che di introite, allora lui stava lì alla scrivania curvo su un piano di lavorazione, io gli dicevo, che vuoi, chi sei? Mi manda il signor Tom Shaw, ha detto, farò l'assistente alla regia, eccetera, sono Umberto Lenzi, gli ho aiutato a fare i sopralluoghi, mi diceva bene, allora dice, guarda, ricopio con l'inchiostro di china tutto il piano di lavorazione, questa è la penna e questo è il calamaio, e io vado a mangiare, mi lascio solo e andrò a mangiare, era l'una, dopo che stavo lì da un quarto d'ora a rifare tutte le cose con l'inchiostro di china, perché il piano di lavorazione si faceva, non c'era il computer, si facevano prima con il lapis, tutte le cose, e poi si cancellavano, si variavano e poi alla fine si stendevano con l'inchiostro. Allora dopo un po' squilla il telefono, Dio pronto, dice, sono un niedercore, mi passi il signor Mussetta, non c'è andata a mangiare, ma lei è, io sono Umberto Lenzi, quello che lei doveva far lavorare, invece non mi ha fatto lavorare per niente, gli disse, e così cominciò questa avventura e mi portò molti soldi, perché a Castiglione della Pescaia stavo a casa di un cugino, e mi davano la diaria e 35 mila lire di paga, erano 70 mila lire la settimana, il giorno si mangiava il cestino, la sera ero sempre invitato, da Tizio e da Caio, perché gli portavo le mogli o le figlie a vedere in dittorni, capito? E quindi io mi sono sistemato, e nello stesso tempo vinse il concorso soggetti del centro, al centro sperimentale facevano un concorso soggetti per la presidenza del Consiglio dei Ministri, allora il centro dipendeva dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, sottosegretariato allo spettacolo, quindi da Nicola De Pirro, Andreotti, eccetera, non c'era un ministero dello spettacolo, e facevano ogni anno un concorso soggetti, io stessi un bel soggetto, era verso maggio del secondo anno, un bel soggetto su un prete operaio, in una miniera lì che io conoscevo bene, della Maremma, e vinse questo proiettivo, 250 mila lire, allora fra quelli 250 mila lire, adesso ho sopravvissuto, e ho fatto un documentario sulle miniere, che non so, non te l'ho mai fatto vedere, te lo masterizzo, te lo do, che fu presentato a Venezia, ed è stato, l'ho fatto insieme a un mio collega brasiliano, il quale era milionario, e mi disse, guarda, io i soldi li metto io, però mi devi mettere come coprecista, ma per la città ho fatto io, la Saint-Germain ho fatto io, e questo documentario è stato poi diventato un cimedio storico, perché raccontava di una teleferica lunga, la più lunga d'Europa, che andava dalle miniere, dell'introterra, delle colline metallifere, mare e mane, andava fino a una nave ancorata in mezzo al mare, dove buttavano tutto, tutto con quella teleferica, e ora è stata distrutta, penso, non esiste più, per cui ogni anno mi chiamano sempre al museo dei minatori, di qui a di là, perché presentano questo documentario, e faccio vedere tutto il percorso, capisci, on the road, di questo minerale, eccetera, fino a quando viene scarico, da dentro la miniera parto, e arriviamo fino allo scarico dentro il porto di Portiglione, vicino Forlone. Poi andai in Grecia, con una mia collega del centro, con la quale malaguratamente, con la quale malaguratamente, mi sposai, ma divorziai subito, appena entrò nella legge del divorzio, e lì feci un film, con Vandisa Guida, la feci venire, e un artore greco, prodotto dai dei greci, che era intitolato Vacanza d'Atene, una comediola, tipo Sapore di Mare, e queste cose. Non hai sposato Vandisa Guida? Eh? Hai sposato? No, no, io chiamai lei a fare l'attrice, io ho sposato una mia collega del centro, greca, si chiamava Terzico Recolosov, capito? E facemmo questo film, che in Italia fu tradotto, io ho fatto il doppiaggio, tutto, ma il produttore che l'aveva acquistato, il distributore, morì in un incidente di macchina, io proprio ho scarognato l'incidente di macchina, per cui in Italia non è mai uscito, mentre in tutto il mondo è andato bene, perché ci sono tutte le colonie dei migranti greci, in Australia, in Nova Zelanda, in Canada, e quindi il film è andato bene, io c'avevo anche una cointeressenza di... è andato bene. Poi io sono ritornato, perché dopo un anno non gliela facevo più a stare lì, oltretutto era un matrimonio sbagliato, fatto in fretta così. Sai, non è come ora, la morale allora voleva le nozze, oggi uno si vette a vivere con una donna, anzi si può vivere, a fare figli per tutta la vita. E allora tornai, mi misi a fare lo sceneggiatore, perché di fare aiutoregista non mandava. E invece poi incontrai Nino Misiano, che era fratello di Fortunato Misiano, però lui faceva l'organizzatore generale per De Sica, ha fatto Umberto di Sciusciallari, di biciclette, era un uomo molto colto, vide che io meritavo e mi disse senti, vieni a fare l'aiutoregista con mio fratello, fa un film Paolella, ti ci infilo dentro. E allora feci questo aiutoregista Paolella, un film di Pirati, e veramente ebbi fortuna perché lui Paolella si era operato in appendicine per cui stava seduto, impostava la scena, diceva dove mettere la macchina eccetera e poi dovevo fare tutto io, Pirati, te, buttati da là, fai qua o strillavo. Allora non c'era la presa diretta per cui praticamente davo tutte le disposizioni come se fosse regista. Quando andò in proiezione, Misiano, il produttore vecchio, disse ma chi è questo che strilla sempre? E il fratello gli disse ma questo è l'aiutoregista Umberto Lenzi, al prossimo film pigliamo lui così risparmiamo. E il prossimo film di Pirati chiamarono me L'avventure di Mary Reed con il quale ho debuttato dove ho lanciato una grande attrice Lisa Gastoni con la quale sono ancora in rapporti. È venuta anche alla presentazione di Terror a Harlem lì alla libreria col marito e quindi esordito con questo film di Pirati andò bene e poi subito ne feci un altro e poi un altro ancora e ne facevo due tre l'anno e così è continuato e sono arrivato a 60. Però io ho fatto un errore di base e che lo riconosco ora che sono vecchio a me se mi facessero girare l'elenco telefonico ma mi pagavano l'avrei fatto perché non avevo i mezzi per realizzare quello che io potevo realizzare in altra situazione capisci? Non ero come Marco Leto dove aveva un fratello dirigente della televisione il padre era stato quasi ministro avevano una bella casa avevano i mezzi stava a Roma la famiglia stava a Roma lui stava a Roma e io dovevo mantenerla giù con il mio lavoro eccetera e quindi ho fatto del cinema di genere capisci senza poter realizzare quello che io avrei voluto fare ci sono tanti film per esempio un film sulle brigate internazionali in Spagna che lo scrisse lo scrisse molto prima che il signor come si chiama il regista inglese facesse facesse Terra e Libertà fatto prima io l'ho scritto vent'anni prima e il film di Quelloce ho trovato tanti strafaccioni che nessun critico del mondo l'ha notati capito? il film di Quelloce ha degli errori proprio storici voluti da lui perché è marzista trotschista e allora ha fatto dire a quelli che hanno che hanno preso il villaggio i lavoratori che l'hanno messo in cooperativa e ha fatto dire tutte le cose che dicevano gli anarchici capito? ma non i comunisti perché i comunisti volevano in lo Stato che imponesse la collettivizzazione delle terre come in Russia mentre lui ha preso un'ideologia di un'altra e l'ha fatta passare per un'altra prima di tutto poi ne avevo scritto uno sui minatori avevo scritto insomma avevo tante idee però durarono un po' queste idee perché mi mise a fare film che mi davano delle soddisfazioni sia di riuscita sullo schermo sia di pubblico e anche all'estero molto all'estero quindi praticamente la mia carriera si è svolta sempre nell'ambito del cinema di genere con una grande tecnica che io avevo avevo assimilato un po' da al centro un po' per i film che avevo visto studiato sono i film di cui io vado pazzo Paesà uno di questi io l'ho visto 30 volte se vuoi ce ne ho tre copie e me lo rivedo ogni tanto perché quando ci sono dei film vedete di me ci sono 500 film tutta la storia del cinema dalla passione di Giovanna d'Arco fino a oggi la mia vita cinematografia è durata 30 anni 35 se considero il centro il periodo greco eccetera circa 40 anni non ho nessun rimpianto sono completamente soddisfatto della mia vita anche perché quando non ho più voluto e potuto fare per regista per ragioni anagrafiche per ragioni anche di salute ho scritto dei romanzi sul cinema che mi danno una grandissima soddisfazione perché risulta il mio valore cinefilo e non quello di regista ma di cinefilo quando io racconto di Blasetti io lo frammentavo e ti dico tutto quello che dice lui infatti in quello che pubblicherò in quello che pubblicherò che ho scritto c'è una battuta di Blasetti che mi fa impazzire li dice a Amidea qualcuno gli dice ma pensa che cos'è la vita per un errore di consonante basta spostare o cambiare una consonante in una frase che il senso diventa obbropioso per esempio prendi il gatto con gli stivali sei al posto della G ci mette la M e viene il matto con gli stivali che sarei io ti piace? lui era il matto con gli stivali andava sul set con gli stivali era matto e con una tuta bianca mi ricordo a Via Veneto lui passeggiava con una tuta bianca allora nacque così che io tendevo già da allora durante i due anni di corso a un cinema e a una vita popolare e un impegno sociale mio tant'è vero che il professor Giorgio Prosperi era un uomo molto acuto e poi era un laico lui liberale e quindi non accettava questa cappa cattolica che aveva imposto il professor Zara e compagni mi chiamava il populista dominicale il populista dominicale perché io parlavo sempre di operai di lavoro di miniere di giustizia sociale di adesso questo populista dominicale mi disse vabbè farò una cosa popolare ma senza nessun impegno ideologico perché se no non me lo fanno fare e scrisse questo soggetto perché avevo letto un romanzo di Pasolini di un signore sconosciuto che si chiamava Pasolini che era ragazzi di vita era uscito da Garzanti tre mesi prima nel Natale del 1956 e nessuno conosceva sto Pasolini il romanzo non ebbe neanche un grande successo io lo lesse e mi piacque di questo non tanto la storia perché poi la storia mi eschisse la mia ma mi piacque i soprannomi di personaggi il ricetto il begalone poi il modo di esprimersi era un modo di esprimersi Borgataro oggi si direbbe allora non esisteva quindi io scrisse un soggetto di mia invenzione che era la storia di un ragazzo di una ragazza l'ha messa incinta quindi la madre si svolge in un biliardo con un altro e parte tutto dall'idea che lui e un suo compare due ragazzi di vita però buoni di Trastevere vogliono andare in Marocco nella legione straniera perché se sono stufati di stare lì senza far niente poi andando in Marocco uno gli dice oh questi ci vanno in Marocco arrivano fino a Sgurgola se gli va bene a fondi a trovare marocchine con le scioce ecco tanto per detto una battuta questo la portai a Pasolini perché io lo portai a Pasolini la sceneggiatura perché volevo volevo mettere il nome ricetto bagalone eccetera a dei miei personaggi lui abitava a Don Olimpia in un palazzo popolare e faceva il professore a Ciampino non era ancora famoso perché la fama gli è arrivata qualche mese dopo allora mi ricevette lui stava lì in uno studio e gli disse senta signor Pasolini io ho scritto un mio saggio di diploma faccio il centro sperimentale che è una storia di ragazzi eccetera non è una storia di ragazzi molto di vita come i suoi ma di ragazzi di Trastevere però mi piacciono molto i suoi dialoghi e i suoi personaggi come nomi perché come sono descritti con dei nomi così strani comunque se lei mi dà un'occhiata e mi autorizza a lasciare questi nomi ai miei personaggi e qualche battuta che regge un po' le sue io l'ho lesso invece è bellissimo non ti posso dire niente tanto fai quello che ti pare anzi quando ti sei diplomato dice se vuoi io ho un soggetto sul mattatoio potremmo fare qualche cosa insieme e la sceneggiatura insieme mi ne sono andato l'ho salutato l'ho rivisto dopo vent'anni e più a Ouarzazà un'oasi marocchina dove lui girava Edipurè e io giravo a Tentata a te grandi un film storico basato sul tentativo di uccidere Churchill, Roosevelt e Dego e ci siamo ritrovati in questo albergo siamo stretti la mano quattro parole e poi niente anche perché nell'oasi c'erano venti camere e le nostre truppe eravamo 40 persone per cui facevamo a botte per avere il posto dove dormire la fotografia Carlo Carlini dormiva nella vasca da bagno della mia della mia stanza non solo c'hai ragione ma io l'ho fatto sei mesi prima di Poveri ma Belli che è molto simile nella struttura nei personaggi sì ma tu è più ruspante è mio ruspante vabbè ma è girato anche così da dilettante però è più autentico ma infatti infatti io ho avuto questa soddisfazione che l'hanno a parte l'hai presentata anche te mi sembra poi l'hanno presentata a Venezia un sacco di volte anche ultimamente poi l'hanno presentato sulla 7 in un programma che si chiamava la venticinquesima ora la notte e l'ha presentata sai chi? lo scrittore Veronesi Sandro Veronesi l'ha presentata e mi ricordo che io ho la registrazione dice adesso ci presenteremo un film di un giovane regista cioè ero giovane quando lo fece dice ora non lo è più ma che è straordinariamente veruspante insomma viene presentato spesso allora Van Disa era una ragazza io ho filmato filmato la settimana Inco che nel 1954 vinse il secondo titolo di Miss Italia cioè Miss Cinema Italia allora il concorso era così fatto non so se è lo stesso era Miss Italia e poi sceglievano una Miss Cinema Italia che era voleva dire che aveva delle grosse caratteristiche per il cinema e lei vinse e fu mandata al centro sperimentale perché comportava la vittoria un premio anche la missione al centro e quindi lei frequentò con me e siamo stati per il primo anno che abbiamo fatto tutto insieme io e lei cioè le facevamo le il professor Carlo Tamberlani è come era dimenticato insegnava recitazione recitazione era un bravo attore e allora ci dava dei testi e noi li dovevamo recitare così e ci trovavamo spesso e poi ho fatto qualche cosa ma no niente con lei perché io scelsi la Mattioli invece Van Disa finisco il discorso l'ho ripresa poi con il mio primo film di regista in Grecia poi l'ho ripresa per un altro film intitolato I ressergenti del Bengala e poi l'ho frequentata spesso perché lei sposò Luciano Martino che è stato produttore di molti film miei finché lui la lasciò per la fene che questa qui ha dato di volta capito è diventata veramente sai lei aveva sfondato tutti i film di Peplum tutti questi film andavano allora li faceva tutti lei capito e il marito le ha fatto fare due figlie ha smesso di farla lavorare per fare la signora moglie del produttore poi l'ha lasciata per andare con questa e lei ha avuto un grosso trauma dal quale non si è più ripresa allora siccome tempo fa sono venuto qui a trovarmi le sue due figlie che hanno ereditato dal pare la società di produzione e vogliono fare il remake del mio film Milano Odia e siccome mi dice ti diamo i soldi per i diritti di regia perché mi danno i soldi per i diritti di regia allora mi spiegò una perché nel contratto che ti fece mio padre non era previsto che tu davi la cessione per il remake che ci pensava capito allora io ho preso i soldi da lì e ora ho preso i soldi da quel film lì incubo sulla città contaminata e lo rifà un produttore austriaco e mi ha pagato per fare per cedergli i diritti di regia e per mettere il nome Umberto Lenti presenta vabbè allora la Mattioli che l'ho detto era una ragazza bellissima ragazza bellissima e poi si vedeva che aveva la forza di raggiungere qualcosa la corteggiavamo tutti Rick Battaglia io Leto però lei non si dava confidenza con nessuno perché era fidanzata con un dottore che aveva una topolina allora l'accompagnava al centro gelosissima e la portava via non ti posso fare il nome perché è diventato uno dei più grandi scenicologi d'Italia famosissimo proprio capito e lei lo lasciò lo lasciò quando trovò di meglio quando trovò Roger Moore Rick siamo stati amici fino là è morto perché lui aveva una villa a San Nicola e ce l'avevo pure io e con me ha fatto diversi film però lui ha avuto molta sfortuna nella vita molto molto sfortuna prima di tutto era bello però era quasi analfabeta che era figlio di gnoti ed era stato fucilato dai tedeschi lui era vivo per miracolo perché faceva piccolo contrabbando lungo il fiume Po perché è delle foci del Po di un paese in provincia di Rovigo fu catturato con altre persone più grandi e li spararono a tutti capito e lui c'ha un buco in testa qui perché la pallottola gli entrò qui e non so com'è che non è morto e quindi si mise a fare il barista a fare il manovale lavori così di uno che praticamente veniva da padre ignoto madre contadina e lui con la cultura che poteva avere in quel periodo andò a fare il barista a Milano un giorno entrò un ometto che sarebbe stato poi Mario Soldati insieme a un altro che era al nostro sceneggiatore non mi ricordo chi quando lo vide cominciò a battere i piedi dice voglio lui voglio lui voglio lui e questo lo guardava gli serviva e l'aperitivo dice vuole me vuole me che è questo è un frocio voglio lui allora lei mi dice guardi questo è il regista Mario Soldati fa un film con un'attrice Sofia Lawrence vorrebbe lei come protagonista e lo presero il film era prodotto da Ponti la donna del fiume dove lui fa una parte non principale perché principale è un francese però fa una buona parte fa il fidanzato di lei allora che è successo che Ponti quando vede che sto ragazzo era molto bello lui atletico bello insomma gli fece un contratto 500 mila lire al mese capito per 6 anni 5 anni 500 mila lire al mese compro subito una fuoriserie e lasciò la famiglia c'era la moglie e tre figli ma morisse a nessuno l'ho saputo vent'anni dopo ebbe un periodo diciamo dal 1950 al 1950 dal 1955 al 1965 che c'era il periodo dei peplum c'era così dove ha avuto molta fortuna frequentava anche un ambiente che se avesse continuato l'avrebbe un po' dirozzato eccetera capito poi dopo ha continuato ma ha fatto sempre parte un po' di secondo piano però la massima occasione l'ha avuta nel film dove io ho fatto la videoricista dell'Universa perché c'era Esther Williams Jeff Shander Rossana Podestà Eduardo De Philippe Rick Battaglia erano un film di 5 persone in un'isola deserto e lui faceva il sardo il cattivo sardo innamorato della podestà che gli sparava a cender eccetera e quella fu una proposta occasione poi ha lavorato in Germania ha lavorato parecchio ha fatto anche un film con Orson Well il suo coprotagonista però è rimasto un contadino quindi a un certo momento quando c'è stata poi una crisi di generi eccetera siamo amici eravamo amici è morto 4-5 mesi fa Marco Leto era una persona di molto valore dal punto di vista intellettuale e culturale perché era uno che veniva insomma da una famiglia tutta di intellettuali fratelli uno era un medico che aveva esercitato in Etiopia era uno di questi progenitori di medici senza frontiere e l'altro fratello Giovanni Leto che era uno di cinema diventò capo struttura della fiction alla televisione fino a che poi è andato in pensione e Marco niente era truscista per cui per cui era molto in viso lì all'ambiente e lui spiegava tutto la rivoluzione permanente il comunismo in un solo paese Stalin a noi non ci voleva niente perché io ero un populista dominicale a me non mi voleva fregare di meno allora e lì al centro lui però troncò e andò due mesi a fare l'aiuto regista di Rossi Franco Rossi perché c'è una cosa di qualche anno prima allora quando il padre era diretticente dell'Ovra alla Repubblica Sociale Italiana aveva sede nel quel paese vicino Vicenza dove ci sono i marzotto e ci aveva l'ufficio lì e salvò tutta l'induzione dei marzotto da requisizione dei tedeschi hai capito li salvò l'industria quindi il conte marzotto quando venne la liberazione salvò lui che se no lo fucilavano capito e l'unico che non fucilarono di grandi cose lo salvò e lo mise direttore di tutti gli alberghi Giolli avevano messo gli alberghi Giolli non so ti ricordi Giolli o Tero erano dei marzotto e lo misero lì e poi loro finanziarono un giovane di Torino che si chiamava Franco Cristaldi e li fecero fare il produttore sembra che tutto questo derivi dal fatto che il figlio di marzotto e Cristaldi erano molti amici uno dei figli di marzotto non mi ricordo se era Umberto ebbero un incidente di macchina dove Cristaldi rimase gravemente disabile e allora per ricompensarlo li misero su questa Vides allora il padre di Marco Letto lo fece subito chiamare a fare l'aiuto regista alla Vides e fece il film dei cosi per cui quando tornò poi al centro finito il film non aveva più possibilità di avere borsa di studio eccetera era un po' considerato un po' un estraneo capito? poi gli offrì il Cristaldi di fare il direttore generale della pubblicità della Vides ma lui voleva fare il regista e rifiutò e lo fece Fabio Rinaudo Fabio Rinaudo si era diplomato l'anno prima di me al centro come regista ma non c'aveva nessuna possibilità di esordire come regista era piccoletto e sgraziato non aveva non aveva personalità però era un grande conoscitore della storia del Cepice e lui è stato quello che ha insegnato a diventare una diva a Claudia Cardinale perché l'aveva messo di guardia a Claudia Cardinale e ha fatto una decina d'anni finché lei non l'ha lasciato sempre sempre appresso a lei e poi è rimasto lì fino alla morte è rimasto infatti il primo ritornatore il nuovo cinema in paradiso l'ha organizzato lui l'ha organizzato dal punto di vista pubblicitario poi c'era Franco Rossetti che era anche lui molto preparato avevamo fatto insieme il circo del cinema di Siena lui era era molto abile però nell'esporsi politicamente lui non faceva parte della federazione dei circoli del cinema che era comunista faceva parte dell'unione italiana del circo del cinema era come si dice liberale socialdemocratica infatti lui si atteggiava a socialdemocratica e fece con me tutti i due anni siamo stati proprio intimi anche dopo lui si sposò anche lui non si sposò si stava sposando con una collega di regia anche lui che era olandese una bellissima ragazza e che io presi a fare la contofiguro di Esther Williams perché aveva una corporatura simile e sapeva notare bene venne con me a Castiglione della Pescaia a fare sto film e si embriagò si trovò un amico di questi di Hollywood e allora lui la lasciò e si è sposato dopo Gaia Romanini Gaia Romanini era una costumista bravissima ha fatto la romana di Zampa di un sacco di film che ora non ricordo si sono sposati hanno avuto una figlia e lui ha realizzato il primo film western prodotto da Ugo Guerra che era piace molto a Tarantino sto film era tutto ambientato nel fango poi fece un altro film molto bello però che nessuno ha visto forse qualche volta l'hanno fatto altrevi che si chiamava Delitto al circolo del tennis era da un racconto di Moravia io non l'ho visto ma me ne parlano tutti come di un ottimo film e poi si fece mettere su dalla moglie di fare il produttore di se stesso perché nessuno lo chiamava capisci e ha prodotto un sacco tre o quattro cinque film soprattutto commedie un po' così un po' sexy e si è rovinato dal punto di vista di regia e dal punto di vista di soldi perché sono falliti Pietro Longo Pietro Longo era un personaggio che faceva praticamente il corso di produzione molto simpatico grasso un po' ridanciano e fu preso da un collega dell'anno prima mio nel suo short che era Gabriele Palmieri era regista lo short era una cosa ambientata sul Tevere una nagita così dove lui faceva un personaggio straordinario con la sua corporatura ci siamo rivisti qualche volta la prima di un mio film mi ricordo al Cinema Corso lo vedi che stava entrando lo salutai eccetera e poi la sua carriera si è svolta dalle stelle a carcere e poi sul centro però potrei dire tutto perché sono quelle esperienze nella vita giovanili che tu porti fino al fondo della vita ricordandoti tutto i particolari tu mi hai citato dei ragazzi stranieri che io non ho conosciuto che non hanno fatto il corso con me perché quelli che hanno fatto il corso con me me li ricordo tutti c'erano due brasiliani Carlo Alberto Susa Barros c'era Cesar Memolo Junior Castiglione Castiglione poi c'erano due due greci però che venivano dall'Egitto perché Alessandria d'Egitto era piena di italiani di greci c'era pure Ungaretti che veniva da Alessandria d'Egitto Cannamagnani Goffred Alessandrini hai capito e da lì vennero diversi al centro sperimentario Grazie a tutti